Lo chiameranno quasi sicuramente Yanguo, che in cinese vuol dire voglia di vivere. E il bambino è nato questa mattina, di fatto per strada, in via Mamelia, a Conegliano, mentre mamma e zia, in preda al panico, non sapevano più cosa fare. Difficile anche l'aiuto da parte dell'operatore del SUEM, che stava in diretto contatto con le due donne, in attesa che arrivasse l'ambulanza, come ci racconta lui stesso, e raggiunto al telefono. E come avete fatto a capirvi? Il problema di comunicazione inizialmente c'è stato, poi la sorella della donna che ha partorito è andata a svegliare, a chiamare un vicino di casa italiano, e quindi abbiamo parlato con lui, che dava indicazioni alla sorella che era sul posto. Passerà la storia come un vero e proprio parto a otto mani, dove sicuramente la professionalità del personale del SUEM ha funzionato anche per interposta persona. Gli spiegava, gli faceva probabilmente vedere anche manualmente quello che io gli spiegavo. Ovviamente certe cose lui le capiva e quindi magari, sì, probabilmente le ha fatte lui o gli ha detto come farle. Ma senta, ma vi capita spesso di dover intervenire in questa maniera? Di assistere telefonicamente i parti? Sì, capita, capita. E chiaramente oggi c'è la complicanza data dalla lingua. Una voce che non identifichiamo perché rappresenta tutti gli operatori che in ogni momento affrontano ogni tipo di imprevisto. Per la cronaca ora mamma e bambino sono all'ospedale di Conegliano, provati ma con tanta voglia di vivere, ovvero in cinese Yanguo.